Indisponibile lo squalificato Vitali dovrà scontare tre turni di stop, Cudini pensa Zammarchi nel tridente offensivo con Cogliati ed Esposito in porta piga per il gioco degli under e non Raccichini. 4-3-3 e tanta aggressività per sbancare Castelnuovo-Vomano in seguitrice dei Lupi. Linea 4 con Fabriani, Menna, Dalmazzi e Vanzan in mezzo al campo Candellori, Brenci e Bontà. In attacco il trio delle meraviglie con Sforzini pronto per l'uso, ultimi dettagli curati alla perfezione nella rifinitura di questa mattina. Castelnuovo-Campobasso sarà diretta da Emanuele Bragaccini della sezione di Macerata. In casa Alditella, il Vasto Girardi, Mercai e Fioretti insieme. Dal primo minuto è la suggestiva idea a cui sta lavorando il tecnico del Vasto Girardi che ad una prima punta di ruolo. Mercai vorrebbe affiancare un trequarti dal piede caldissimo, dall'assist naturale e dal gol facile Fioretti. Fabio Prosperi gioca a carte coperte e non fa trapelare nulla. L'alternativa è Camarà. Come da protocollo, intanto ieri pomeriggio Ruggeri e Soci si sono sottoposti a tampone antigenico. L'esame ha avuto per tutti esito negativo, dunque Prosperi avrà l'imbarazzo della scelta nello scegliere l'undici da mandare in campo contro l'Aprilia, un brutto cliente da battere a tutti i costi. Vasto Girardi, Aprilia sarà arbitrata, da Stefano Striamo, di Salerno.